Una buona prestazione con un risultato che poteva essere anche una bella vittoria? A un certo punto ci abbiamo creduto, potevamo fare anche qualche gol in più sul 2-0. Abbiamo disputato veramente un ottimo primo tempo senza dimenticare che giocavamo su un campo al limite della praticabilità nonostante sia un campo che ha tenuto molto bene per la pioggia che è caduta però sicuramente oggi ci ha penalizzato mentre magari ha aiutato un pochettino di più i giocatori di Perugia che fisicamente erano strutturati molto più di noi. Però una buona prestazione contro una squadra che comunque è appena scesa dalla Serie B e alcuni giocatori sono rimasti. Sì, però qui parliamo di un nuovo campionato, Perugia è una società di blasone sicuramente è un campo che sarà difficile per chiunque, siamo all'inizio del campionato perciò ogni squadra deve trovare la propria identità, la propria condizione fisica però è stata una bella partita, giocata su di un campo, torno a ripetere, molto zuppo d'acqua però i giocatori in campo non si sono risparmiati e hanno dato vita ad una bella gara sicuramente noi recriminiamo un po' però sul 2-2 magari sappiamo benissimo i ragazzi sono venuti fuori e hanno avuto un paio di occasioni sul 2-2 perciò abbiamo dimostrato che volevamo e cercavamo di vincere però sappiamo benissimo che contro il Perugia anche quando sono stati fatti i cambi per loro sono entrati giocatori veri, importanti sicuramente noi con i giovani nostri siamo stati bravi e all'altezza della situazione Grazie mister Prego Grazie Grazie